questa benedetta televisione oggi ci martella, ci martella, ci martella tutta a posto, tutta a posto, ma quale un cavolo di tutto a posto, quale tutto a posto allora ci hanno dato la possibilità di uscire, bene usciamo ma teniamo tutte le precauzioni del mondo, cavolo, e se non è proprio necessario ma ci sarà tanto tempo per uscire sin denavagli e pignatili, sin denavagli e pignatili alla bacia la camminata andava a fare, nell'ora che stava sentito morta la notte e camminato che hanno bisogno, nell'ora niente, Pax Domini, è finita